Pure sul sito della regione, se va petrolio in Basilicata, sono i dati che fornisce lo stesso soggetto controllato, cioè vale a dire l'Eni, sono i dati che fornisce alla regione dove sono sempre gli stessi, che qui non c'è inquinamento, non c'è inquinamento dell'aria, non c'è inquinamento dell'acqua, non parliamo poi dell'anidride solforosa, sono i dati che non risultano. A casa mia è lì, questa è la casa mia, questa è la casa mia, questa verde qui piccolina, non la grande, sono io i sacrifici che ha fatto. Oggi pensavo che veniva dall'estero e voleva stare tranquillo e io non posso stare nemmeno un giorno qui, me ne devo scappare. A che dobbiamo ringraziare? Anche i nostri politici, che sono i bastardi, i nostri politici, fanno finti che non sanno niente e sanno tutti, mangiano e bevono loro, la massa dell'operaio la mettono nel sedele, parliamo alla paesale, basta, finisco. Sono vigliacchi, fanno a che me ne freghi, la massa dell'operaio la mettono sotto i piedi, se ne fregono nella massa dell'operaio. Noi abbiamo fatto i sacrifici, siamo partiti con la valigia di cartone, da 62-63, sono andati sbisti qui, per muovere i miei sacrifici, e tutti, tutti i nostri compagni, tutti, mica solo io, tutti. Oh signore, state in Australia, portate la vita, c'è la casa dietro lì. Conti soli.